Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Diverse le notizie soprattutto di Cronaca, ma in questa edizione parleremo anche di diverse iniziative sia a Ferrara che in provincia e vedremo anche immagini legate al mondo dello sport, ma dobbiamo aprire con la Cronaca questa edizione grave incidente. Domenica mattina in città ha ferito gravemente un ciclista investito da un'auto che ha colpito tutto un gruppo di ciclisti amatori. Vediamo e sentiamo le testimonianze di quanto accaduto. Ciclisti investiti da un'auto domenica mattina poco prima delle ore 9 in via Marconi all'altezza del semaforo che regola l'incrocio con Viero Iti, uno degli ingressi al petrolchimico di Ferrara dove si trova a Piazzale Donegani. Un 74enne è stato trasportato all'ospedale di Cona con ferite gravi. Secondo quanto ricostruito finora, quattro ciclisti amatoriali partiti da Lago Santo e arrivati in città stavano procedendo da Via Padova in direzione centro quando dalla parte opposta una BMW guidata da un ventenne avrebbe invaso la corsa e investito il gruppo. Due ciclisti sono solo caduti e risultano illesi mentre altri due sono stati colpiti in pieno dall'auto che si è fermata subito dopo l'impatto. Un ciclista ha riportato qualche scorreazione mentre il 74enne è rimasto ferito seriamente. Intervenute due ambulanze con l'automedica sul posto anche la polizia di Stato per ricostruire l'accaduto tra le ipotesi un colpo di sonno dell'autista dell'auto. La domenica mattina è un disastro per l'entrata perché si dice che non dorme, non va a letto, si è dormita mentre guida. Infatti lui ha detto che si è dormitato con la musica accesa. Questo è il problema della domenica mattina. Arriva anche in Emilia Romagna lunedì il messaggio che testa il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale messo a punto dal Dipartimento di Protezione Civile. La sperimentazione permette di far arrivare sui cellulari delle persone che si trovano in una determinata zona un messaggio di allarme nei casi di gravi emergenze e catastrofi. C'è uno spot che sta girando e l'SMS di prova sarà inviato lunedì alle ore 12 a tutti i cellulari in Emilia Romagna. Questo è un messaggio ET Alert. Il sistema di allarme pubblico che una volta operativo invierà messaggi in tempo reale nelle aree interessate da gravi emergenze. Ora il governo italiano attraverso la Protezione Civile sta testando ET Alert. Quindi se ricevi un messaggio significa solo che sei in un'area test. Per fare la tua parte clicca sul messaggio, entra nel sito e compila il questionario. ET Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico. Questo quindi lo spot a cura del governo. Ora però ritorniamo alla cronaca arresto per rapina impropria. In centro a Ferrara venerdì pomeriggio un cittadino straniero già noto alle forze di polizia per i suoi precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio avrebbe rubato dagli scaffali alcuni generi alimentari in un supermercato. Nascondendoli in uno zaino alla cassa avrebbe pagato solo una bottiglietta di tema. Un dipendente dell'esercizio avrebbe notato il furto. Un suo collega avrebbe chiesto all'uomo di mostrare il contenuto dello zaino. L'uomo per liberarsi e fuggire avrebbe sferrato un pugno al polso del lavoratore riuscendo così a divincolarsi. Ma all'esterno del supermercato erano già arrivate le volanti della polizia che hanno fermato l'uomo, poi arrestato, arresto convalidato e l'autorità giudiziaria ha disposto la liberazione. E ora cambiamo argomento sabato speciale, quello di Coldiretti Giovani Impresa di Ferrara che ha donato 500.000 api agli apicoltori ravennati danneggiati dal maltempo e dall'alluvione del maggio scorso. Cinque nuclei di api donati da giovani apicoltori ferraresi sono stati consegnati sabato mattina a Ravenna ai colleghi della Romagna per dare un segnale di ripartenza dopo il dramma delle alluvioni delle scorse settimane. I giovani di Coldiretti Ferrara hanno voluto fare un gesto concreto di solidarietà nei confronti di alcuni apicoltori della vicina provincia di Ravenna donando oltre mezzo milione di api come segnale di ripartenza e speranza. Il delegato dei Giovani Impresa di Ferrara Stefano Bellini con altri giovani imprenditori accompagnati dal segretario di Giovani Impresa Ferrara Stefano Menegatti e dal direttore della federazione Alessandro Visotti hanno portato materialmente cinque nuclei in speciali cassette predisposte per il trasporto in sicurezza e nel rispetto del benessere di questi preziosi insetti è stato detto pronti per essere consegnati ad apicoltori che hanno avuto danni anche a questa attività perdendo in molti casi l'intero patrimonio aziendale oltre che il raccolto primaverile di miele. Le cassettine ricorda Stefano Bellini sono complete per formare una nuova famiglia con la peregina, le operaie e i maschi. Sappiamo che di fronte a danni incalcolabili si tratta di poca cosa ma tante piccole azioni possono contribuire a ripartire e dare nuova speranza, ha aggiunto Bellini. Col diretti Ravenna ha ringraziato e sottolineato il gesto dei colleghi ferraresi. La consegna delle api è avvenuta al mercato di campagna amica. E anche il comune di Ferrara ha partecipato alla due giorni di incontri questa settimana al centro congressi La Nuvola di Roma nell'ambito di Missione Italia 2126 PNRR dei Comuni delle Città. Evento annuale organizzato da ANCI per parlare appunto di PNRR nei comuni e nelle città per fare il punto degli investimenti e sulle riforme che lo accompagnano da due giorni. È stata l'occasione di confronto tra sindaci e amministratori locali. Che cosa è emerso? Ce lo dice direttamente chi vi ha partecipato per Ferrara, ovvero l'assessore Andrea Maggi. È stato un incontro molto importante sia per la qualità degli interventi, praticamente è intervenuto quasi tutto il Consiglio dei Ministri, sia anche perché ci ha dato a noi amministratori la possibilità di confrontarci tra di noi e di condividere quelli che sono le progettualità e anche le criticità legate al PNRR. Devo dire parlando con colleghi di altre città capoluogo, posso dirlo con soddisfazione ma di tutti i ferraresi che Ferrara è da più parti presa come punto di riferimento sia per la capacità di attrarre finanziamenti sia per la progettualità. In queste due giorni romana ero accompagnato dall'Avvocato Mazzatorte, direttore generale e abbiamo avuto modo anche di assistere dalla viva voce dei nostri amministratori nazionali, quindi ministri e sottosegretari, anche quali sono i passaggi con l'Europa in questi giorni, in queste settimane interlocutori su quelli che sono i vari temi che sono un po' al centro del dibattito nazionale. Parliamo ora di un dispositivo che favorisce il riposo ma soprattutto supporta le persone con particolari difficoltà motorie, per questa ragione sono nate e si sono sempre di più diffuse le poltrone relax della loro importanza anche dal punto di vista sociale e sanitario associate a Montascale e Mini Ascensori, se ne parlerà nella puntata speciale di Sanità e Benessere Oggi in onda lunedì 10 luglio alle 22.30 su Telestense. E ora parliamo della Notte Rosa che ha caratterizzato il fine settimana sul litorale Emiliano Romagnolo da Comacchio a Rimini, ma anche in città si è celebrato questo evento con la Settimana Rosa che ha convogliato in centro diversi appuntamenti che hanno attirato tante persone a Ferrara, da Piazza Trento Trieste al Castello Colorato di Rosa fino al saluto finale con il concerto all'alba domenica incertosa. Sentiamo e vediamo le immagini. La grande musica di Ennio Morricone, unita a tributi all'Oscar Ferrerese Michelangelo Antonioni al Giardino dei Finzi Contini, ha salutato l'alba di Domenica Incertosa a Ferrara, interprete del repertorio del maestro davanti a circa 1200 persone esauriti in mille posti a sedere di fronte al Tempio di San Cristoforo, è stato il Conservatorio Frescobaldi in uno spettacolo introdotto dall'assessore Matteo Fornasini e dal presidente di Ferrara Tua Luca Cimarelli. La scaletta scelta per salutare il nuovo giorno ha spaziato dalle colonne sonore dei classici spaghetti western di Sergio Leone fino ai grandi titoli anni 80 come C'era una volta in America e Nuovo Cinema Paradiso. Per sottolineare la grande importanza di Ferrara come città del cinema sono stati proposti anche brani di particolare significato come L'Avventura scritto nel 1960 per il film omonimo di Giovanni Fusco che fu il compositore fisso di Michelangelo Antonioni fino a Deserto Rosso. Altro omaggio ferrarese è stato per Il Giardino dei Finzi Contini, film ispirato al celeberrimo romanzo di Giorgio Bassani e che valse a Vittorio De Sicca il premio Oscar. Sul palco con la direzione di Roberto Manuzzi si sono esibiti Erika Corradi, Alessandra Franchina, Valentino Briatore, Giulia Carriero, Raffaele Gentile e Ambra Bianchi. La partecipazione è stata gratuita, senza prenotazione. Il concerto all'alba ha coronato una settimana circa di appuntamenti realizzati nella città estense nell'ambito della Notte Rosa in piazza Trento Trieste e sabato sera l'appuntamento con il DJ internazionale Paul Kalkbrenner nell'ambito del festival Ferrara Summer Vibe. diverse le migliaia di spettatori sullo stesso palco domenica sera alle 21.30 di scena Lazza il giovane rapper tra i più noti e secondo classificato al festival di Sanremo. Poco distante da piazza Trento Trieste in questo fine settimana speciale il castello estense è stato illuminato di rosa e sabato ha aperto eccezionalmente i battenti fino alle 23.30 anche con le visite guidate serali. Andiamo adesso in provincia di Ferrara a successo nel fine settimana per il raduno nazionale del Vespa Club di Copparo. Vediamo le immagini. La Vespa è un vero e proprio modo di vita, una passione che a Copparo può vantare un'associazione particolarmente vivace. Vespa Club che ha organizzato il secondo raduno nazionale città di Copparo sabato e domenica, un appuntamento patrocinato dal comune. Il via sabato con il ritrovo nel primo pomeriggio davanti alla sede comunale per le iscrizioni e la partenza per un giro turistico di 35 chilometri con soste visite ai luoghi storici del territorio. In serata l'appuntamento è stato in piazza Copparo con il concerto dei 60 lire. Domenica, il secondo giorno, il punto di incontro è stato in piazza della Libertà con la partenza per il giro turistico con soste aperitivo e premiazioni a Villa Mensa per poi tornare a Copparo per il pranzo al Parco Verde. Il Vespa Club è nato negli anni 50 ed è stato rifondato nel 2017 e ha la volontà di divulgare la passione per la Vespa grazie a eventi caratterizzati da coinvolgimento e amicizia. Tra questi appunto il raduno nazionale dopo la prima edizione del 2018, poi la sospensione dovuta alla pandemia e ora la ripartenza, grande spazio riservato alla beneficenza con il sostegno all'AIRET, l'associazione italiana sindrome di Rett, che si pone come obiettivi di promuovere e finanziare la ricerca genetica per arrivare quanto prima a una cura di questo raro disturbo del neurosviluppo e di sostenere la ricerca clinica riabilitativa per individuare soluzioni alle numerose problematiche che la malattia pone quotidianamente. Sport adesso, football americano si è infranto il sogno delle Aquile di Ferrara, un passo dalla gloria e il titolo di seconda divisione infatti è andato a Bergamo in una finale combattuta, i Lions hanno avuto la meglio 29-22 sabato sera allo stadio Mirabello di Reggio Emilia. Le Aquile di Ferrara sono state costrette a lungo a rincorrere gli avversari ma nella fase centrale della gara erano riuscite a operare il sorpasso portandosi sul 22-21. Nel finale però Bergamo ha operato lo scatto decisivo e costretto le Aquile alla prima sconfitta di una stagione che si è chiusa sì con la mare in bocca ma anche con la convinzione e la soddisfazione di un continuo processo di crescita. E ora passiamo alla pallavolo, quattro torri al lavoro per una serie B di vertice ufficializzata, il nuovo consiglio direttivo in settimana e la società Granata ripartirà appunto dalla serie B con diversi progetti da cui è emerso nell'incontro in cui è stato ufficializzato tutto questo anche il nome del nuovo allenatore. È Fortunati, viene da Bellaria, è un allenatore conosciuto a livello giovanile, è sempre lavorato molto sui giovani come anche Maurizio Forte che era con noi fino all'anno scorso, diciamo che con Maurizio, a Maurizio era stato proposto di ripartire da un altro gruppo perché credo che dopo tre anni si arriva a un ciclo, alla fine di un ciclo ma senza cambiare la filosofia che è quella di lavorare sui nostri giovani perché che sia una B, che sia una A, quello che sia è importante che la squadra, la nostra squadra da quattro torri in campo abbia insomma buona parte dei giocatori di Ferrara. Lavoro sul territorio, anche questo sarà importante? Lavoro sul territorio è quello che stiamo cercando di fare, è più difficoltoso farlo col maschile che col femminile per i numeri che ci sono oggi nella Palavolo italiana, non solo da noi, quindi diciamo che col femminile insieme all'ACLI San Luca, insomma abbiamo il consorzio Palavolo Ferrara, stiamo facendo un grosso lavoro, anche quello complicato perché in termini numerici obbliga insomma a essere operativi su tanti fronti, nel maschile io credo che il maschile si è visto negli anni ridurre sempre più il numero di atleti proprio, quindi non nella quattro torri ma di atleti che fanno Palavolo, è importante che tra le società del territorio ci sia una qualche forma di collaborazione per cercare di rilanciare uno sport che secondo me a livello spettacolare insomma è il più bello, parlo di atleti insomma che si vedono da grosso livello ma che non ha più la pil nei maschietti che avevano a volta, quindi adesso i maschietti alti vanno a fare basket, è importante che noi insomma facciamo una promozione per il nostro sport che comunque nel territorio è una grossa tradizione perché ricordiamo Codigoro, ricordiamo Porto Maggiore, insomma quindi diciamo una tradizione che si è un po' negli anni vista un po' perdere, noi siamo a disposizione insomma del territorio e di questo Confortini ne parliamo continuamente per cercare di rilanciare diciamo la Palavolo maschile in provincia, oltretutto provincia dell'Emilia-Romagna che si trova a scontrarsi con dei colossi a livello nazionale perché le altre province dell'Emilia-Romagna sono province dove la Palavolo si respira a pieni polmoni. Ragazzi e ragazze quante squadre e quanti giovani orbitano attorno alla 4-4 di Palavolo? Le squadre sono circa 34-35, questo dipenderà dal numero del prossimo anno, soprattutto ragazze, sono soprattutto ragazze perché ci sono più di 250 ragazzine e ragazze che giocano a pallavolo, i maschietti sono circa 100, dagli ultimi diciamo nel campionato appena finito c'erano almeno 20-25 giocatori under 13 e under 15, quindi abbiamo una base importante che potrà in futuro, speriamo non così lontano, dare un supporto importante alla società. Lutto nel mondo del calcio si è spento domenica mattina all'età di 88 anni, Luisito Suarez allenò anche la SPAL nato alla Corugna in Spagna nel 1935, tra i più forti centrocampisti della sua generazione, pallone d'oro nel 1960 è divenuto una leggenda del calcio insieme all'Inter di Elenio Herrera e di Moratti negli anni 70, iniziò poi ad allenare dopo aver appeso gli scarpini al chiodo e guidò anche la SPAL nella stagione 1976-1977, come vedete in queste immagini d'archivio. E ora parliamo però di tennis, nuovo appuntamento con la Coppa Davis a Bologna, nel capoluogo della regione Emilia Romagna, l'Italia sarà nel girone con Canada, Svezia e Cile in settimana. La presentazione alla stampa di questo ritorno del tennis nella regione, sentiamo. Bologna si prepara ad abbracciare nuovamente la Coppa Davis e la nazionale italiana di tennis. Dopo l'esordio dello scorso anno, dal 12 al 17 settembre, il palcoscenico della Unipol Arena di Casalecchio di Reno ospiterà ancora una volta gli azzurri impegnati nel gruppo A con Canada, Cile e Svezia per uno degli appuntamenti più importanti attesi nel cartellone di oltre cento eventi promosso dalla regione Emilia Romagna. Un risultato frutto dell'accordo tra Federazione Italiana Tennis e Padel della stessa regione del Comune di Bologna, firmato lo scorso anno e valido fino al 2026, che porta sotto le due torri uno dei quattro gironi delle fasi finali del più importante torneo al mondo a squadre del tennis maschile. L'Italia di Capitan Volandri esordirà mercoledì 13 settembre alle ore 15 contro i campioni in carica del Canada, un'occasione immediata di riscatto dopo la sconfitta dello scorso anno in semifinale contro i nordamericani, poi vincitori per la prima volta nella loro storia nell'ambito trofeo grazie al netto successo in finale sull'Australia. La selezione tricolore tornerà quindi in campo venerdì 15 settembre alle ore 15 per affrontare il Cile per poi chiudere il proprio girone domenica 17 alle ore 15 contro la Svezia. Le prime due classificate del gruppo si qualificheranno insieme alle vincitrici degli altri tre gironi giocati a Manchester nel Regno Unito, a Valencia in Spagna e in Croazia, nella sede ancora da definire per le Final 8 in programma Malaga dal 21 al 26 novembre 2023. E con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni del Telegiornale di Ferrara. Grazie.